E il vincitore del giveaway è Benedetto2905, bravo Roccia, bravo, ha indovinato il brand di bici di Marco Dele Fontana nel 2023, in avanti. Ragazzi, ladies and gentlemen, clap your hands per Scott Bikes! Sì, sì! Finalmente mi si presenta questa opportunità molto molto importante, finalmente uso la bici di Nino Shorter così capiamo perché va così veloce di Nino Shorter, perché? Probabilmente perché è una Scott Bikes, altrimenti non si capisce, va troppo forte questo ragazzo. Finalmente ne ho una, questa è la Spork Team bianca e nera perché sanno che io sono sempre il Porsche Privateer, quindi voglio una bici assolutamente chicosa. E adesso vi andiamo a dire che cosa veramente faremo in sella a queste bici. Logicamente noi, e parlo io e il Simo, ciao Simo Armani è sempre con me, noi creiamo contenuti belli, stilosi, eleganti, posh, ma anche di qualità e con un po' di ciccia. Come gli ultimi content che vi abbiamo portato un po' sull'allenamento, su cosa facevo io quando correvo. Adesso ho una valanga di cose da portarvi, un po' perché il brand è nuovo, ho tante bici da provare e farvi vedere sul canale, un po' perché ci sono tante attività anche nuove che andrò a svolgere, e un po' perché voglio tirar fuori degli aneddoti che in carriera mi hanno portato a avere esperienze che voglio condividere con voi. Questa è la Scott Spark Team Spark, è la bici appunto usata dai new shurter, pazzesco come abbiano integrato l'ammortizzatore, poi lo vedremo anche sulla Genius, sulla Lumen e su un sacco di prodotti pazzi che fa Scott. bianca e nera è stupenda, abbiamo montato le nostre can da the best or nothing. Tra l'altro queste qui sono le Rush da 2.4 che non ho mai provato perché ho provato le 2.2 ma secondo me sono un filo stretto e questa è una gomma che già mi piace un bel po'. Grazie a Garmin che ci ha dato il computerino in tinta con la bici e i rally. Questa bici è montata tutta XT, tutta Shimano, perché? Perché oltre ad essere un pilota sponsorizzato Shimano, faccio il giro della bici. Questa la utilizzerò agli internazionali d'Italia Series che seguirò un po' come l'anno scorso, creando contenuti mediatici per loro, girando in bici perché mi piace, andando a cercare di intervistare qualche pilota così portiamo a casa qualche chicca, qualche sciccheria e di conseguenza è montata tutta Shimano. Quindi la sparca due modelli di carbonio migliore di questi, ma ballano 100 grammi, non tanta roba. Questa è in mezzo alla gamma ma è pazzesca perché è bianca e nera, quindi mi piace molto. Seguiremo gli internazionali d'Italia, quindi ci vedremo per la prima tappa a San Zeno di montagna a Verona e non vedo l'ora di girare, sfidare un po' i miei amici, andare a prendere qualche tempo, portarvi qualche sciccheria. Last but not least, quello che volevo assolutamente dirvi era che non l'ho ancora provata, non ci ho ancora fatto un giro in bici. Sicuramente faremo un video sul primo test della bici, ma anche se il Simo non ha voglia di uscire di casa, adesso io mi vesto e vado a fare quattro pedalate perché voglio feeling the vibe, voglio sentire che cosa mi racconta questa Scotch Spark. No, no, ma dai, ma come non gira in bici? Hey Nino, what's going on? Hey everybody, I'm here in Italy enjoying the sun in Switzerland and shit tons of snow, so in Castellar Quattos, in my friends, drinking wine, it's actually better than Toscani. Hi, who are you? What's your name again? I'm Simone. Hi Simone. Ciao. Hi. Sorry, I need to go. Ok. I'm in the car, watch it go room, room. I told them all that I was soon, soon. New as a child, back in the womb, yeah. Oh, told them to sit back, I need more room, room. Hop in the car, watch it go room. I'm in the whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in the room. I've been surreal, I'm down to the tomb. They in the way, they gotta move. I got the gas, they running the fumes. Told them way back, it's something new. It's me and then, you gotta boom. Oh, io vado a sorbergo di un caffè, va bene? Ehi, ehi, Roccia, vieni, dobbiamo ancora fare una cosa. Cosa? Tira su sta camera. La bici del Porsche Privateer. Quanto mi piace fare queste cose. Baby, you mind. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo vlog. Un botto di cose. Ciao. 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 . Ciao. 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 Grazie.